Buongiorno, buongiorno e bentornati su TCS Tre Cosa Smeralda è il magazine, quando uno dei principali motori di ricerca, le piattaforme elettroniche si accorgono della Sardegna e delle sue unicità, vuol dire che la strada è giusta. Allora, andiamo a vederlo. E chi l'avrebbe mai detto, scritto meglio, certificato nero su bianco, in uno dei principali motori di ricerca legati al turismo, alla promozione e valorizzazione del territorio, il nostro. C'è dunque la piattaforma, il sito e pure il profilo Twitter di Viaggio Italiano. E c'è la Sardegna, l'isola e le bellezze, curiosi, insolite e uniche, in particolare l'arte e i graffiti, schizzi a colori e scritte immediate, che sembrano titoli di quotidiani, disegni, mai definirli così, quelli che da nord a sud, attraversando il centro, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha visto, seppur disfoggita, quei disegni. No, non chiamiamolo disegni, poi li ha osservati e fotografati, meglio, meglio, ancora meglio, ripresi. Si è fatto un selfie o una stories, oppure un mini video, anzi un reel, taggando il paese e poi inserendo il cancelletto di rito, l'hashtag, orgosolo, oppure sansperata e tanti, tanti altri ancora. Insomma, arte, Sardegna, l'aperto, nei muri e nelle piazze, nei borghi e nei vicoli, storie di tradizioni e lotte per l'uguaglianza, oppure simboli e codici che richiamano plasticamente a colori tanti e a tratti sgargianti, significati, storie e vita, vita di ieri e vita di oggi. Arte di strada, anche qui sarebbe limitativo definirla così, un panteo, una galleria naturale, almeno secondo la piattaforma Viaggio Italiano, dove si declina e spiega, il patrimonio artistico insolito di queste opere, oltre 2000, quelle censite, quelle ufficiali, molte, molte di più invece, quelle realizzate ogni giorno e sparse tra i vicoli delle città, dei borghi e dei paesi sardi. Da sansperate alla gallura, da tortoria alla planage, ancora il medio campidano, il sulcis, orgosolo, poi diventa capitale di questo fil rouge, filo rosso, che lega e codifica questa narrazione a cielo aperto di colori e storie, di storie, di colori, di culture, descritta attraverso le rappresentazioni di vite da altri tempi, di artigianato, di proteste, di pace e di aneddoti legati al paese o comunità di riferimento. E allora, chi l'avrebbe mai detto meglio scritto che la Sardegna, la nostra, attraverso i murale o murales, diventasse protagonista di questa storia raccontata da una delle piattaforme legate al turismo, più importante e cliccate della rete. Intanto le camminate, il trekking, i sentieri sono uno dei segmenti che in questa estate sono stati valorizzati ancora di più, c'è anche il club italiano che sorveglia tutto, allora andiamo a vedere. Le origini lontano 1879, con una breve esperienza e poi sempre più in alto, con la sua definitiva fondazione nel 1932. Il CAI Club italiano-alpino, sezione di Cagliari, continua la sua attività senza sosta, un punto di riferimento e una certezza di grande professionalità per chi vuole avere un rapporto stretto con la montagna tra escursioni, ciclo, escursionismo, speleologia e arrampicata. Il CAI è un'associazione che rientra tra le associazioni ambientaliste con lo scopo della frequentazione per la montagna, della montagna, della frequentazione consapevole. Quindi i soci sono accumulati dalla stessa passione e dello stesso amore per l'ambiente. L'alpinismo in Sardegna è un movimento assolutamente vivo e che è rappresentato da tantissime altre realtà oltre a quella del CAI. Quella del CAI, nel nostro caso specifico, noi qua abbiamo la scuola di alpinismo. Come recita l'articolo 1 del suo Statuto Nazionale, lo scopo del Sodalizio è quello di implementare l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In Sardegna l'alpinismo, con tutte le sue molteplici sfumature, è una realtà consolidata. Si sta lavorando con passione per fare in modo che anche questa disciplina diventi attrattore dell'industria turistica regionale. Dunque l'alpinismo, ma in particolare l'arrampicata in Sardegna, è già una realtà piuttosto consolidata. Già richiama tantissimi appassionati, dall'amatoriale al professionista che vengono qua per passare del tempo per allenarsi addirittura. Può diventare ancora più un veicolo per il turismo? Assolutamente sì, sempre nei limiti e nel recinto della frequentazione che non deve essere aggressiva, ma deve essere comunque rispettosa nei confronti della montagna e delle farese che vengono frequentate. Pian piano l'aspetto turistico della montagna sta tracciando i primi sentieri. Dei giorni scorsi la notizia è che nel territorio di Arizzo è stata allestita la prima capanna sociale, situata nell'oasi di Texile. La capanna sociale è come da statuto del CAI, è una formula tra le varie strutture d'accoglienza per i camminatori, per chi frequenta la montagna. Nel caso specifico è rivolta ai soci del Cribalpino italiano o non soci accompagnati all'interno sempre e comunque di uscite istituzionali o di eventi istituzionali. Ciò vuol dire che non è una struttura che ha libero accesso, ma deve essere regolamentata. Abbiamo un regolamento che verrà fisso anche nella nostra sede e sarà pubblicato nel nostro sito e con le modalità di utilizzo e a chi è rivolta la capanna sociale. Per chi volesse conoscere ed avventurarsi in questo magico mondo è possibile visitare il sito ufficiale dell'associazione www.caicacagliari.it E c'è il sole come avete visto in questi giorni, anzi in queste settimane che costarrei fa il pieno di turisti. Vediamo. Si è chiuso un altro fine settimana allungato dalle feste di ogni Santi con temperature quasi estive. In Sardegna sono stati molti ad approfittare del clima per riversarsi sulle spiagge dove gli imprenditori più accorti hanno lasciato aperti chioschi e servizi da spiaggia. È accoduta anche Costa Rei, una delle località più rinomate della costa sud Sardegna dove la stagione 2022 è ancora in pieno corso e sono stati soprattutto i turisti stranieri a riempire le strutture di ospitalità. Per la presenza notevole di stranieri che mancavano ormai da due anni a causa Covid e questo per noi è un punto molto importante nell'economia globale della stagione turistica perché ovviamente vanno a riempire comunque un periodo molto determinante che è quello della bassa stagione. Molti di noi hanno chiuso la metà di ottobre proprio grazie alla loro presenza. Costa Rei è un piccolo borgo turistico appartenente al comune di Muravera e da tempo ha approntato tutte le sue attività economiche intorno al settore turistico. Con ragione le spiagge e le calette sono tra le più suggestive, la sabbia è finissima e a tratti sull'acqua cristallina compaiono costoni di roccia che rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Il villaggio è composto prevalentemente da seconde case, resorte e alberghi. La vita qui si anima soprattutto nei mesi estivi anche se qualcuno ha finito per poi decidere di vivere proprio tra queste case per godersi la quiete dell'inverno e il mare che anche nella bassa stagione è comunque incantevole. Un notito gruppo di imprenditori qui a Costa Rei ha fatto fortuna tra bar, ristoranti, case e agenzie di intermediazione. La stagione 2022 sembra aver soddisfatto le loro aspettative. Il turismo della bassa stagione comunque è un turismo molto differente da quello dell'altro, cerca esperienze particolari, cerca angoli della Sardegna che molte volte risultano inesplorati o poco visitati nel periodo estivo. Quindi è una buona ragione quella di insistere su queste attività, sulle attività collaterali cosiddette nel periodo estivo che invece diventano determinanti nel periodo di bassa stagione. Il nostro magazine ospita storie legate alla cultura, alla tradizione e alle curiosità. Adesso scopriamo quella di... andiamo a vederla. Genio indiscusso dell'arte funeraria, Giuseppe Maria Sartorio ha lasciato la sua firma in Sardegna su tante sculture che ancora oggi impreziosiscono città e cimiteri. E sì, il suo talento spiccato emerge con forza, soprattutto nelle monumentali sculture a corredo di tombe e sepolcri, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Michelangelo dei Morti. Proprio lui scomparso esattamente cento anni fa in circostanze misteriose, mentre si trovava sul pirosca fotocra che copriva la tratta fra Olbia, allora Terranova e Civitavecchia, svanito nel nulla, in mezzo al mare. C'è un alone di mistero anche sulla scomparsa di quest'uomo? Sì, allora la alone di mistero è sempre quello, l'hanno ucciso, si è suicidato, è caduta accidentalmente dalla nave e quello resterà un mistero perché nessuno mai potrà sciogliere questo nodo che rimane lì e c'è poco da fare. In occasione del centenario Iglesias Unica nell'isola celebra con un convegno l'autore del suo monumento, forse più identificativo, la statua di Quintino Sella, nell'omonima piazza al centro della città. Siamo l'unico comune che ha scelto di celebrare questo scultore che peraltro è famosissimo non soltanto in tutta la Sardegna ma anche nella penisola e stasera peraltro scopriremo che è conosciuto anche in Europa. Ma ci sembrava doveroso per quanto ha lasciato non soltanto la celebre statua di Quintino Sella che tanto fu voluta da Roberto Cattaneo ma ha lasciato tanto proprio al cimitero monumentale di Iglesias che tale è proprio perché racchiude nella maggior parte proprio le statue del Sartorio. Non è un caso che Quintino chiamassero Michelangelo dei Morti. Per la sua apirizia tecnica certamente, per la sua tecnica che era veramente sopraffina, soprattutto nell'anatomia, nei panneggi e anche nella composizione dei monumenti. La Sardegna ha beneficiato di questa sua arte? Direi di sì. Se togliamo i monumenti del Sartorio i nostri cimiteri sarebbero molto molto meno monumentali. Non solo Iglesias dunque ma anche Sastri dove il Sartorio aprì una bottega. Nel cimitero del capologo turritano sono più di cento le sculture realizzate ma è suo il monumento per eccellenza in piazza d'Italia, la statua di Vittorio Emanuele II di Savoia. All'inaugurazione nel 1899 parteciparono anche il re Umberto I e la regina Margherita. E proprio per salutare i reali Sassari organizzò una grande sfilata di costumi sardi. Fu la prima edizione della cavalcata. Sartorio piace moltissimo anche sui social. Tantissimo. Gestisco una pagina del cimitero di Sassari ed è molto seguita sia per Sartorio che per altri monumenti. Ma Sartorio colpisce sempre e attira parecchio. Del Sartorio restano molte opere, tantissime. Busti, statue, altari e lapidi. La prima che porta la sua firma a Cagliari è custodita nel cimitero monumentale di Monaria. Ed eccolo il primo monumento funerario realizzato dal Sartorio qua in Sardegna. Siamo al cimitero monumentale di Monaria. Felicità Meteo, Morganti, una lapide che il Sartorio proprio ha realizzato per questa amica di famiglia. Esatto. Si tratta proprio dei primi mesi che il Sartorio trascorre in Sardegna. Era arrivato qua per la posa in opera del monumento dedicato a Quintino Sella di Iglesias. Nel frattempo subisce una perdita appunto questa sua cara amica, o meglio la moglie di un suo caro amico, e muore dando alla luce un figlio all'età di 36 anni. I viali di cappella e lapidi del cimitero che occupano il Colle di Bonaria sono ricchi di sue opere che rispecchiano il gusto di famiglie nobili e altoborghesi dell'epoca, che ostentavano la ricchezza e il potere della casata con monumenti funebri. In basso avalle le tombe dei più piccoli dei fanciulli, le sorelline strette in un abbraccio, il piccolo Efisino, Maria appoggiata ad una balaostra. E ancora l'ultimo bacio, straziante addio di un fanciullo alla madre. E infine lassù in alto, a dominare la città, la cappella Onnis Devoto, la prima tra quelle innalzate in cima al Colle. La storia è una storia molto triste, come tante ce ne sono in questo cimitero, ma altrettanto bella. La povera Caterina si era suicidata dopo aver saputo che suo marito era morto per un colpo poplettico nelle vie di Cagliari e il parroco non volle portare la bara di Caterina all'interno della chiesa proprio perché lei si era suicidata. Il padre di Caterina, come gesto disperato, comprò la concessione su questa porzione di terreno e affidò la progettazione e la realizzazione della cappella proprio al Sartorio. Insolito e curioso questa storia, altre storie delle nuove generazioni, uno sguardo alla nostra programmazione. Oggi alle 21 c'è il programma all'Europa dai fondi alle idee, scritto e condotto da Leila Manunza, ci porta a vedere le nuove generazioni, 5 paesi diversi che arrivano in Sardegna, scoprono la Sardegna anche attraverso e grazie all'Europa. Io per ora termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni, vi ricordo per chi non c'era trovate tutto nella nostra piattaforma social. Grazie.